Ciao a tutti e che ciotti benvenuti in questo nuovissimo video della minecraft mod ita sono stato in una caverna e nella caverna qua sotto casa In particolare perché spawnano tantissimi mob e quindi ho deciso di mettere un po di torce perché si sentono da casa mia e da un casino Cioè un casino costantemente Tutti mob comunque un casino ho ucciso anche degli enderman e Però prima ora invece ho uscito un enderman mi ha dato questo un nebo lusart che non so che cos'è però guardando Decrafting sembra qualcosa di davvero interessante fate un ender staff questa mod che si chiama la reliquari Sembra davvero interessante e quindi ci daremo un occhio guardava road of lissa non so che cos'è ma sembra sembra bello Sembra l'occhio di salamander cioè bello e poi vedremo con calma in futuro per il momento mettiamo da parte perché la nostra preoccupazione Per questa puntata è un'altra ed è per la precisione L'energia stiamo finendo l'energia infatti per captare questi tre oggetti Questi due oggetti il testo ce l'avevo già Ho dovuto spiegare un po di energia Del nostro stirling Della fornace insomma tutti. I nostri macchinari stanno soffrendo a parte quelli che non uso e perché abbiamo più energia Non abbiamo più lava e non ho più un luogo qua vicino dove prendere la lava quindi ho preparato il nether mi spiego ho praticamente Questi tre oggettini ma non solo questi tre perché dovrò prendere anche il tank altrimenti non ha senso quello che sto facendo Sto blocco che mano si chiama builder block ed è un blocco molto utile Della rf tools se non sbaglio ho ampliato la mia base qua del nether Rf tools infatti e voi provare a fare una cosa di questo tipo mettiamo Qui lo stiline generator in cui andremo a mettere nel carbone potenzialmente perché se avessi avuto L'end road non userei il portable tank ma userei l'ender tank Lender tank che è molto più comodo perché semplicemente Non non dovrei andare tornando a tornare Ma sarebbero collegati tra le due dimensioni quindi può usare questo tank il tank e dove dove mettere liquidi e Sare molto molto più comodo solo che al momento non ho blaze road e quindi non posso farlo ma Non è un problema non è un problema perché intanto se tappiamo il tutto e poi cambiare il tank e ci vuole mezzo secondo Allora abbiamo lo stiline generator accanto allo stiline generator mettiamo il builder block Che è questa cosa strana con questa interfaccia molto strana e il builder block non serve solo a fare da pompa quindi per prendere liquidi Serve anche per tante altre cose lo useremo anche come query il builder block perché è molto semplice da settare e Consuma tanta energia però non è un problema e ne parleremo più avanti perché andremo addirittura in un'altra dimensione Per utilizzare questo blocco esatto una nuova dimensione oltre al nether ce n'è ancora un'altra E ho creato anche questa carta e i crafting cioè sono semplicissimi guarda builder block Builder block è una cagatina ci vuole un po' di bricks tanto che l'inio un botto machine frame che è lapislazuli ferro e un po' di Nugget e la carta invece la ship card è del vetro attorno alla ship card della pompa Questa si fa con dei secchielli infatti non più secchi a casa redstone e E la ship card di base che è questa qui sempre con dei brick però non blocchi bensì I mattoni quindi tutto molto semplice come funziona Allora partiamo dal presupposto che questa macchina riceverà della lava perché siamo nel nether io ho creato un ponte E come vedete l'ho creato abbastanza sicuro in questi sempre con lo stesso metodo della scaletta perché io ho una paura proprio Cattivissima dei ghast io so che loro verranno mi faranno male e quindi ho messo un muretto non Volevo metterlo doppio perché altrimenti sembrava tipo bunker però se vedo che mi sparano comunque Metterò il doppio livello Detto questo Oltremmo della lava da questo coso per immagazzare la lava mettiamo qua sopra il nostro bellissimo Portable tank cui la linea è blu vuol dire che è in input e a noi va benissimo e Ora prendiamo la nostra space ship card space card la useremo un'altra volta è un'altra cosa completamente Premiamo shift click e ora abbiamo selezionato la macchina Scendiamo infatti ho fatto in modo di andare Proprio al livello della lava denti e ghast Sono molto attenti e ghast no 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 c'è un creeper Porca vacca e chi l'aveva visto questo Muori no 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 Ok ce l'ha con me non ce l'hanno con me ora per impostare bene la cosa devo andare a livello del La lava prendiamo un primo blocco che potrebbe essere quello e prendiamo il secondo corner E che dovrebbe essere un po più lontanuccio no dai dove la mia non ho molti blocchi come Quindi giocheremo sul fattore Fattore spero di non morire allora Pensiamo un po di blocchi a caso e mettiamo qui il secondo corner Ok ho messo le impostazioni nella nuova carta Ora posso risalire qua sopra E tornare in cima nella mia base vicino al portale e voi direte ok che hai fatto surry ho selezionato la zona di Pamp dove lui andrà a prendere i liquidi Ora questa carta particolare che ho preso lascerà il buco vuoto c'è quella classica c'è quella originale che sai per Cattare questa cosa che invece Sostituisce con la terra quindi ha bisogno anche di un blocco di input Un casino invece io ho fatto che lo lascia vuoto ora clicco col destro è stata inserita posso anche mettere supporto preview E in teoria dovrebbe mostrarmi la zona ora non so se da qua in alto me la fa vedere Non me la fa vedere non me la fa vedere però dovrebbe esserci la zona dovrebbe dovrebbe funzionare tutto in realtà Leviamo i suoni che non ci interessano Facciamo che funziona affinché c'è un impulso di redstone che a me manca in questo momento anche perché devo andare A prendere sia l'impulso di redstone ma anche il carburante per lo sterling generator perché altrimenti l'energia sto coso da do la piglia Bella domanda ok abbiamo la leva ora prendiamo del carburante Quanto carbone ho? E prendiamo un mezzo stack Finché non ho il poi l'ender tank non mi servirà neanche averne così tanta di energia se ci pensate Perché riempio il tank ma poi disattivo la macchina tutto questo dovrebbe funzionare l'unica cosa mi preoccupa forse è la distanza Tra i blocchi e la macchina del del pump però vediamo come va a finire intanto cuociamo Piano piano sta generando l'energia Io metto la leva accanto e vediamo se funziona attivo e come vedete Piano piano perché ha bisogno di tantissima energia Ottengo la mia lava e in questo modo avremo una bellissima fonte Di liquidi otta come vedete li sta prendendo da lì vedi Se c'è tutta roba che manca e piano piano prende tutti i blocchi E noi siamo contenti e semplicemente dopo che avrò finito quella zona magari Ci metterò impegnerò un po di più con Con dei blocchi quando avrò un po di cobblestone per poterlo fare per fare dei ponti e metto il primo corner la in fondo E l'ultimo corner la in fondo così non devo più preoccuparmi della lava perché è vero non è infinita ma porca vacca Chi è che ne usa così tanta noi per il momento no quindi qua continua a cuocere questo è pieno no manca ancora un po Cano gli ultimi pari ok è pieno ora inizierà ad accumulare energia anche tanto non può più lavorare Io prendo il mio portable tank Perfetto posso tornare a casa e metterlo in cima al mio sistema di generazione di energia quindi faccio così No no volevo fare Perfetto e ora i nostri motori funzionano e possiamo reiniziare a riempire il tutto ora non funzionerà subito perché prima cerca di riempire questi qua come vedete Però insomma piano piano con calma visto che la lava ora non è un problema anche se lo è Piccolo motivo che devo andare a prenderla nel nether però quando avremo poi l'ender tank non sarà più questo problema Potrei aumentare la mia quantità di magmatic dinamo Considerando che piano piano avevano sempre più blocchi che hanno bisogno di energia Diciamo che non è una brutta idea questo consuma 2005 a botta È vero che non l'ho usato praticamente però e che non funziona come vorrei io Però 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 non serve una brutta idea anzi facciamolo Ok abbiamo due invar abbiamo questi qua questo qui questo qui perfetto ma magmatic dinamo Per un'altra fruit pipe ma ce l'ho da parte E quindi direi che siamo appostissimo Devo collegarle perfetto signore e signori abbiamo il tutto a disposizione Però abbiamo molta più energia in ingresso più 120 r Attic perché qua è tutto pieno giusto si perfetto energia a noi a questo punto ti dirò Andrò a prendere altra lava subito però potremmo addirittura creare Un altro basic capacitor Tanto i capacitor ce li ho perché li ho craftati Ne ho fatti un botto l'altra volta per provare il coso Ah no ma guarda me ne manca ancora uno Ma non è un problema Non è un problema Allora sapete cosa potrei fare? Redstone mode active with sign Perchè in questo modo se attivo solo con un segnale io posso prendere un pezzo di stone Fare un bottone mettercelo sopra Se io qua prendo un capacitor questa è una teoria però se funziona alla grande Ah cacchio ho spostato la finestra ora si vedrà nero dove non dovrò sti cazzi Capacitor faccio più E' attivo Se faccio con il bottone Me lo crafta perfetto così non spreco materiali Incredibile Ok allora funziona come vorrei io ora Alla grande Comunque mi serve un po' di ferro E un blocco di redstone E voglio far vedere una cosa bellissima del basic capacitor tank E che funzionano come se fossero un multiblocco Quindi posso mettere due vicini E si collegano automaticamente Boom diventa un blocco unico e solo che solo che ora ha possibilità di ottenere due milioni di rf per tic Cioè due milioni di rf che non sono davvero male Comunque prendiamo il nostro tank e andiamo a riempirlo nel nether Ho usato questa tecnica di mettere la macchina direttamente sulla portale Così non devo espormi al pericolo ogni volta E voi direte Bravo Suri Ed è vero Quindi ora io faccio così Faccio così E ottengo tutta la lava del caso Perché qui ad esempio Ah no ora non c'è abbastanza energia E' quello il problema Se avesse abbastanza energia Potrebbe fare un botto di roba Però questo si accento RF E si diciamo che Potrebbe essere un po' lentino Fare tutto Per me ha qua l'energia Però nel nether Cioè potrei metterci Un altro magmatic dinamo Che prende un po' di la lava Che produce per fare Altra roba Potenzialmente si Però non penso ne valga la pena Cioè lo riempio E basta Lo riempio e basta Sì vai Andiamo La cosa è che secondo me Senza rendermene conto Già con due tank riempiti Ho praticamente svuotato la zona No dai c'è ancora metà C'erano altri due tank che posso prendere E poi dovrò cambiare Delle impostazioni Ciao amici Ecco la lava Contenti? Producete Piccoli buffetti Quindi generano un 40 a testa Ok E purtroppo in questi Non si possono fare gli upgrade Ah invece sì Upgrade required Augmentation Più energia è prodotta Dai carburanti Quindi solamente dovrei fare questo Che si fa con Led Glowstone E un conductant coil Tense coil E potenzialmente potrei farlo L'unica cosa che mi viene in mente È che ho abbastanza glowstone Ok per fortuna Ho qui Un po' di blocchi Aspetta Io non so come funziona Sto albero Ho paura Prendiamo un bloodwood Vediamo che succede Che se si rompe tutto l'albero Cado nella lava E non è una roba bella Rischiare Quindi torniamo a casa Va bene questa glowstone che ho preso Non ci preoccupiamo Va bene così Ciao bene Poi in realtà si va benissimo 38 pezzi Vabbè craft un attimo questi augment E vediamo se funziona Tanto nel craft 1 Che poi magari sbaglio E spreco materiali Perfetto Eccoci qua Vediamo se funziona Col destro No Shift click Come faccio Come faccio a usarlo Porca vacca Aspetta Questo è un dynamo basic C'è scritto Dynamo Non so come si usa Porca vacca Ah The augmentation tab Lost for modular addition Dice upgrade required Vabbè mi guardo la wiki Ho capito Ci vediamo nel prossimo episodio In cui forse avrò capito Che cos'è che serve Io vi saluto Ciao turuturutti